Oggi vi porto un contenuto che mi è stato richiesto da più di una persona. Andremo a vedere come funziona l'app Canon Camera Connect e come possiamo utilizzarla per scattare fotografie tramite la nostra fotocamera preferita con il nostro smartphone come trigger e telecomando principale e successivamente vedremo come possiamo importare le fotografie che abbiamo fatto dalla memory card della fotocamera sul telefono in modo da poterle condividere direttamente sui social media. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, come sapete sono un fotografo e oggi andrò a mostrarvi come funziona l'applicazione per smartphone che ci permette di manovrare la nostra fotocamera direttamente dal display dello smartphone quindi potremo utilizzare il telefono come telecomando per dire alla fotocamera quello che deve fare potremo dirle di mettere a fuoco in un determinato punto potremo andare a cambiare tutti i parametri dell'esposizione potremo scattare la foto da remoto potremo vedere la foto immediatamente dopodiché potremo trasferire la fotografia dalla memory card del telefono direttamente sullo smartphone questa è una funzione come potete immaginare molto potente perché ci permette di abbattere l'ipotetica barriera che esiste tra la fotocamera e il telefono creando di fatto una sinergia per cui questi due device una volta tanto lavorano insieme e sono loro al nostro servizio invece che noi al loro questa è una funzione che vi devo confessare professionalmente io non ho mai utilizzato quindi faccio questo video solamente per mostrarvela è una cosa che non faccio mai perché io preferisco utilizzare un comando remoto di cui sono provvisto perché quando io utilizzo il mio smartphone lo uso per fare altre cose che sia b-roll piuttosto che per parlare con un cliente piuttosto che per semplicemente tenerlo in tasca o mettere su della musica lo uso per altre cose quindi non mi piace averlo immobilizzato mentre sto scattando preferisco avere un dispositivo dedicato che faccia esattamente la stessa cosa però siccome so che molti di voi sono interessati a vedere come si fa a manovrare la fotocamera tramite il telefono cellulare che abbiamo tutti e quindi non richiede l'acquisto di una componente aggiuntiva eccomi qui a fare un contenuto proprio per mostrarvi questo aspetto vi consiglio a questo punto per non perdervi altri contenuti come questo che potrebbero essere di grande interesse per voi di iscrivervi subito al canale cliccando il bottone qui sotto e se attivate anche la campanella non rischiate di perdervi i prossimi contenuti ragazzi vi chiedo anche di lasciare un like a questo video perché voi non lo sapete ma mi aiuta veramente tanto nel mio processo di crescita sull'algoritmo di questa meravigliosa piattaforma stiamo creando una bella community per cui aspetto i vostri pollici benissimo ma siamo pronti a tuffarci all'interno della nostra fotocamera e del nostro telefono una doverosa premessa andremo a utilizzare sia la funzionalità bluetooth sia le funzionalità wifi quindi andremo a utilizzarle entrambe ovviamente dobbiamo avere un telefono con una connessione attiva perché se siamo con un telefono privo di connessione tutto quello che vi farò vedere non funzionerà molto bene ma eccoci qui con una fotocamera e un telefono cellulare adesso quello che andiamo a fare è che sblocchiamo il nostro telefono andremo ad aprire l'app store e andremo a cercare canon camera connect ricordiamo che l'app è assolutamente gratuita perfetto in questo momento l'app è stata scaricata sul nostro telefono e noi andiamo ad aprirla ci viene chiesto ovviamente di accettare termini e condizioni cosa che andiamo prontamente a fare dobbiamo consentire le notifiche perché se non lo facciamo l'app potrebbe non funzionare nella maniera corretta andiamo nuovamente ad accettare ora qui abbiamo un po' di pannelli introduttivi che andiamo a schippare immediatamente e andiamo a cominciare e questo è il momento di andare ad accendere anche la nostra fotocamera ora quello che dobbiamo fare è attivare il menu e dobbiamo andare nel menu chiave inglese prima tendina qui abbiamo wireless communication settings ovviamente dobbiamo attivare il wifi in questo caso era già attivo nel caso fosse disattivato bisogna ovviamente andare ad attivarlo e andiamo ad attivare anche il bluetooth lo impostiamo su smartphone ora attenzione ci spostiamo su pairing e ovviamente andiamo a selezionare il tipo di dispositivo che abbiamo quindi nel mio caso io sto lavorando su un iphone per cui andrò a dirgli ios in questo caso come potete vedere qui compare un qr code che servirebbe per scaricare l'app ma io l'ho già scaricata quindi a me non serve in questo caso gli posso dire semplicemente do not display pairing in process e in questo momento il telefono e la fotocamera si stanno cercando a questo punto possiamo andare su registra la tua fotocamera e possiamo andare a selezionare il modello quindi M50 non è la mark 2 ma è la mark 1 a questo punto dobbiamo selezionare bluetooth oppure wifi io posso scegliere sia uno che l'altro qui dice consigliato bluetooth e noi faremo proprio così qui ci chiede l'ennesima autorizzazione noi ovviamente la accettiamo camera connected desidera utilizzare il bluetooth e noi accettiamo eos m50 eccola qui a questo punto andiamo a selezionarla richiesta di abbinamento bluetooth noi ovviamente andiamo ad accettare qui ci viene confermato che la nostra scelta è corretta ed ecco fatto la nostra connessione è riuscita e anche qui gli andiamo a dire ok ora ovviamente noi abbiamo tutta una serie di cose molto interessanti che possiamo fare con questo device la prima cosa che vi faccio vedere è scatto remoto con live view come potete vedere ci siamo procurati un soggetto nel senso che qui abbiamo una molletta perdonatemi non sono riuscito a trovare di meglio con questo poco preavviso che ho avuto ora come potete vedere io vado a posizionare la mia camera e vedete che c'è una lucina che mi segnala che è collegata quello che noi possiamo fare adesso è gestire tutti i processi via remoto nel senso che noi possiamo andare a modificare l'esposizione come potete vedere qui ci sono i parametri dell'esposizione quindi io posso modificare i tempi e come potete vedere la mia esposizione cambia posso modificare i diaframmi e la mia esposizione cambia posso modificare gli ISO e nuovamente la mia esposizione cambia quindi posso andare interamente a gestire lo scatto via remoto posso gestirlo interamente dal telefono e una volta che ho trovato l'esposizione ottimale in questo caso la lasceremo così perché non ci interessa particolarmente adesso vedete che io posso andare a mettere a fuoco andando a toccare lo schermo del mio smartphone e la fotocamera cercherà di andare a mettere a fuoco il soggetto in questo caso la fotocamera è troppo vicina per cui io devo allontanarla dal soggetto e adesso dovrei essere in grado di focheggiare correttamente infatti in questo momento la fotocamera ha agganciato il soggetto adesso io posso andare tramite il mio smartphone a scattare la fotografia c'è un timer di due secondi ed ecco che la fotografia viene catturata correttamente a questo punto torniamo indietro e un'altra cosa che è molto interessante è che noi possiamo importare le immagini sulla fotocamera qui come potete vedere abbiamo le immagini di prova che ho scattato noi possiamo andare ad aprirne una e importarla sul nostro telefono possiamo selezionare dimensioni originali o dimensioni ridotte quindi abbiamo la possibilità di scegliere quanto sarà grande la nostra foto io lascio dimensioni ridotte perché la stiamo mandando su uno smartphone quindi non deve essere enorme e vedete che eccola qui se noi andiamo nel nostro rullino foto è comparsa la nostra foto che si vede anche un gran bene perché è stata scattata comunque con una fotocamera quindi è molto meglio di una foto fatta col telefono ora torniamo all'interno della nostra app perché ci sono altre cose carine che vi voglio far vedere ora se noi torniamo indietro vedete che abbiamo funzioni e qui ci sono un paio di cose interessanti perché per esempio abbiamo il trasferimento automatico qui noi possiamo importare trasferimento automatico in questo modo ogni volta che andremo a scattare una foto tramite il nostro telefono verrà automaticamente scaricata nel rullino foto questa è una cosa da fare con attenzione perché queste immagini pesano e potremo riempirci la memoria del telefono molto molto in fretta per cui adesso io lo vado a togliere anche qui abbiamo riduce immagine elimina informazioni sulla posizione quindi possiamo eliminare i dati gps telecomando bluetooth questa è una cosa interessante perché qui ci consente di fare lo switch tra modalità video e modalità foto e possiamo andare semplicemente a premere il bottone di scatto in questo caso come potete vedere mi dice errore perché è troppo vicino e non riesce a mettere a fuoco però se noi ci posizioniamo in maniera corretta vedete che la macchina va a eseguire lo scatto in maniera perfetta quindi io posso usare il mio telefono semplicemente come scatto remoto oppure lo posso usare come un vero e proprio device per andare a vedere l'esposizione e modificarla per fare questo ve lo faccio rivedere non dobbiamo fare altro che tornare su home e andare su scattare in questo caso stiamo passando alla connessione wifi e di nuovo gli dobbiamo dire accedi perché passando al bluetooth si è disconnessa da sola noi adesso torniamo a connetterci alla fotocamera tutte le volte ci mette un pochino però funziona sempre al primo colpo e nuovamente noi possiamo andare come potete vedere possiamo andare a mettere a fuoco quello che vogliamo e la fotocamera mette a fuoco con precisione esattamente dove gli abbiamo detto e possiamo andare nuovamente a cambiare l'esposizione modificando i nostri parametri in maniera tale da avere esattamente l'esposizione che vogliamo bene amici come avete potuto vedere applicazione carina non lo nego ci si possono fare tante belle cose perché tenete conto che allora vi ho detto all'inizio che io non la uso ed è vero io non la uso perché ho dei dispositivi dedicati per fare quella roba lì me li sono comprati perché preferisco avere dei dispositivi professionali addibiti a questa funzione piuttosto che il telefono ma anche perché io voglio la libertà di poter usare il mio telefono quindi nel momento in cui io sto facendo uno shooting io voglio averlo il telefono perché potrebbe telefonarmi qualcuno potrei dover scrivere io a dei colleghi che stanno facendo qualcos'altro mentre io sto scattando e magari abbiamo bisogno di comunicare potrei dover comunicare col cliente potrei fare qualsiasi cosa potrebbe venirmi voglia di aprire instagram per cercare ispirazione quindi a me non piace avere il telefono immobilizzato a fare queste operazioni io voglio poter usare il mio telefono mentre sto facendo qualsiasi cosa poi quando sono col cliente non lo uso ma mi piace poter pensare di poterlo fare quindi per questo motivo mi compro dei dispositivi dedicati a svolgere queste funzioni però come detto siccome so che molti di voi non ce li hanno questi dispositivi ed è molto comodo farlo con lo smartphone perché è gratis quindi non ci costa niente vi devo anche raccontare che utilizzandola per farvela vedere mi sono reso conto della potenzialità della cosa perché effettivamente avere in tasca il cellulare che si trasforma in comando remoto per la nostra fotocamera è una bella comodità significa che possiamo dimenticarci tranquillamente il nostro scatto remoto perché tanto possiamo sempre usare lo smartphone ora io ho ben tre comandi remoti ho tre borse fotografiche ognuna di essa dentro un comando remoto quindi per me è impossibile dimenticarlo però io sono stupido e sapete perché? perché ho comprato un comando remoto poi l'ho perso e quindi ne ho comprato un secondo a quel punto avendo perso anche il secondo perché cavolo sono piccolini e dico ma dov'è ma dov'è girano le scatole lo ricompro un bel momento risaltano fuori gli altri due per cui mi trovo con tre comandi remoti costavano niente costano 20 euro gli RC6 quindi ne avevo tre e a questo punto ho detto facciamoli fruttare ogni mia borsa fotografica ha già di default dentro un comando remoto RC6 quindi io non ho quel problema detto questo però esistono dei momenti in cui può essere molto comodo io magari ho messo la camera su tre piede sto facendo quello che devo fare e semplicemente tirando fuori il mio telefono posso comandare la camera da distanza ed è meglio a questo punto il telefono rispetto all'RC6 perché l'RC6 ti fa fare lo scatto e basta col telefono io posso tirarla fuori e posso vedere cosa sto inquadrando e posso variare l'esposizione senza toccare la macchina questo è molto figo perché mi permette di modificare l'esposizione senza toccare la macchina mi vengono in mente un sacco di cose per cui potrei usare questa applicazione ve ne dico soltanto una il focus stacking ho già fatto dei video sul focus stacking in cui vi facevo vedere che andavo a focheggiare a mano è brutto farlo a mano ragazzi è bruttissimo infatti una delle funzioni delle fotocamere più moderne che mi piacciono un sacco è lo stacking automatico gli dai un intervallo e lui va a mettere a fuoco automaticamente e ti fa le foto automaticamente a quegli intervalli è automatizzato in questo caso non è automatizzato però io qui posso andare toccando lo smartphone a dirgli dove deve mettere a fuoco e quindi posso farmi il mio focus stacking facendo gli scatti senza toccare la maledetta fotocamera ed è uno stramaledetto aiuto ragazzi perché ogni volta che tocchiamo la fotocamera c'è un minimo di disallineamento anche se abbiamo un treppiede fantastico l'ho sperimentato di persona un minimo di disallineamento c'è sempre per cui poterlo fare senza toccare la macchina è tanta roba così come anche è tanta roba poter cambiare l'esposizione senza toccare minimamente la macchina questo significa che quando facciamo il bracketing per l'HDR per esempio non dobbiamo più impostare gli step di bracketing sulla fotocamera ci pensate noi possiamo andare a fare gli scatti semplicemente guardando il display possiamo renderci conto se è sovraesposta sottoesposta e possiamo andare a fare quanti scatti vogliamo variando l'esposizione a display senza mai toccare la macchina questo significa che possiamo andare oltre possiamo fare 12 scatti di bracketing perché tanto ce li facciamo noi in automatico e non siamo più nemmeno vincolati alla distanza tra uno step e l'altro possiamo andare a scegliere esattamente le porzioni che vogliamo quindi diventa molto molto pratico secondo me è uno strumento valido lo userò vi dico la verità non lo so perché comunque mi impaccia un po' questo metodo di lavoro io sono già abituato a lavorare in un'altra maniera però esistono dei casi in cui potrebbe farmi comodo e ormai l'app ce l'ho per cui è molto probabile che la prossima volta che sarò a fare un bel paesaggio su tre piede è possibile che io decida di farmi gli step di bracketing da solo senza usare gli automatismi della macchina e andare a farmeli da solo utilizzando quest'app vedendo esattamente quello che sto facendo e come sto esponendo la prossima volta che farò un focus stacking è molto possibile che io decida di andare a provare a mettere a fuoco in punti diversi senza toccare alla macchina quindi utilizzando solamente il display del mio smartphone è una comodità e a questo punto io decido di usarla ovviamente se stiamo facendo un lavoro professionale gli scatti andranno immagazzinati sulla memory card del telefono e dovranno poi essere gestiti in post produzione a computer non posso pensare di fare un lavoro professionale e poi scaricarmelo a risoluzione diminuita sul telefono ma posso mandarmelo sul telefono per inviarlo direttamente al cliente per esempio per farglielo vedere oppure posso inviarmelo sul cellulare per mandarlo a un mio collega sviluppatore che sta lavorando al sito e posso fargli vedere in diretta e dirgli ti va bene la foto fatta così e lui mi può dire no zoom un pochettino indietro piuttosto che riduci la profondità di campo quindi diventa uno strumento molto molto utile che come vi ho detto non so se userò però sono contento di sapere che c'è quindi devo ringraziare una persona in particolare che mi ha fatto una richiesta mi ha chiesto di fare un contenuto su queste app e io come sempre ascolto le vostre richieste per cui ho deciso di fare questo contenuto non faccio nomi perché la privacy eccetera eccetera ma tu sai di chi sto parlando bene amici non mi dilungo oltre vi lascio spazio nei commenti fatemi sapere che cosa ne pensate di questo tipo di tecnologia la utilizzate che fotocamera avete che tipo di connessione avete io vi ho fatto vedere Canon ci sono altre applicazioni che secondo voi funzionano meglio o peggio di altri brand fatemelo sapere nei commenti vi ricordo anche che spesso e volentieri io rispondo ai commenti con degli shorts con dei video brevi per cui se volete essere sicuri di non perderveli vi consiglio di iscrivervi al canale in maniera tale da ricevere le notifiche quando pubblico eventualmente una risposta a un vostro commento è stato come sempre un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video e io vi do appuntamento 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 e io vi do appuntamento